Qua siamo sul punto più alto di Lampedusa Vieni a vedere che panorama Ciao ragazzi! Signore e signori, c'è 6 agosto 2011 inizia la serata la Taramalata! Oh, ma che c'è anche la Taricino? 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 Siamo arrivati in Africa, in Tunisia amore, oddio stasera mi si è incantato, la manetta si è incastrata e inoltre è una roma di roma di una cimera. E' un giorno dopo un'alleggiata.... ognuno ci ha detto che non fanno successo.... ma il Extremely Colano... con un grado di pollo spessore che è infatti che è un grado di più in grado del giro suon正usica... suon正usica, che è un grado di più in grado di più Oh, ciò che cazzo? Gambe larghe, eh? La, la, sono, vedi? Sto facendo quel cartone là, vedi? La, 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 per l'estero Faccio quello la ver batteries, quindi ieri sera ho perso un'altra No, no, c'è il calamaro, c'è il calamaro, zio, guarda che roba. Oh, mazza cosa la lezza, eh. Più uno. Siamo. Alla prossima La bomba la c'è, eh? Ehi! 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 Ma prende con le mani! Ma cosa c'è? Ehi! 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 Non ti posso credere! Ehi! 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 Macusa! Ha il suo cartone! Ho tutto! È Milano! Ma roba di mare? Tutta roba di mare? Io vendono tutto... Un negozio in gran! Un negozietto piccolino! No! Il moltismo? Quanti hai? Grazie! Non la porti giù! Ti devo dire quella è dominica quando fai il funerale! ahahahahah! Grazie a tutti.